Baru si allontana dalla TV? Fan preoccupati, sta succedendo dopo il GF VIP. Grande fratello VIP, Baru sempre meno presente in TV, ha scelto di allontanarsene. Baru Gaetani è stato un grande protagonista del grande fratello VIP. Tanto da arrivare in finale nonostante fosse entrato a programma ampiamente inoltrato. Baru, dopo la fine del programma, sembra essersi allontanato prepotentemente dalla TV e molti fan sono preoccupati all'idea che non voglia tornarci. Baru, infatti, è un uomo estremamente legato a cose semplici come la natura e infatti nelle sue storie su Instagram non è raro vederlo pubblicare foto di mare. Paesaggi vari o di cose semplici come una birra. Il ritorno in TV, per ora, sembra soltanto un miraggio per sua volontà. Baru rifiuta l'isola dei famosi dopo il grande fratello VIP. Baru, infatti, è un Già molto lesivo di suo per una personalità come quella del nipote di Costantino della Gerardesca L'isola, però, potrebbe essere stata un'esperienza estremamente più vicina ai gusti di Baru rispetto al GF VIP Pertanto non sono da escludere eventuali anche se improbabili colpi di scena Grande fratello VIP, Baru e Jessica Selassie si rivedranno? Lei non perde la speranza Per mesi, durante il grande fratello VIP, molte persone hanno associato Baru e Jessica Selassie sperando che nascesse qualcosa Tra i due però nel reality non è nato niente anche se la vincitrice non ha nascosto che le piacerebbe rivedere e risentire il nobile Magari approfondendo una conoscenza anche solo con il fine di avere un'amicizia lontano dalle telecamere E anche Baru non è parso troppo lontano da questa idea